e ciao ragazzuoli bentornati sul canale di zio ivan per proseguire la serie su a hat in time prima di partire però voglio fare un autentico applauso a marco colicchia se non sbaglio si per aver azzeccato la citazione di nightmare before christmas la canzone che canta jack dopo essere stato abbattuto con la sua simile dritta slitta da babbo nacre detto questo continuiamo siamo al 52 per cento e abbiamo trovato 29 clessidre allora vediamo che ci aspetta cercherò di nuovo di spaziare tra i mondi voglio raccogliere più clessidre possibili ah ecco e poi devo anche vedere questo è probabile che debba usare la maschera non ci ho pensato l'altra volta mi avete dato una marea di suggerimenti ma io ero talmente rimbambito dalla febbre che difficilmente mi è rimasto impresso qualcosa quindi andrò a vedere ma non avevo notato che abbiamo anche la codina fantastico ah non posso uscire aspetta fatemi riindossare ecco ora si andiamoci da qui era lì sopra qui il robottino che si è schiantato qui giusto eccolo qua telecamera sempre appiccicata ma vabbè ormai è a quanto pare sì a quanto pare si bastava schiacciare questo bottone per fare non so cosa ora che ho schiacciato questo bottone che succede ce n'è un altro qui e dobbiamo usare il cappello di ghiaccio il cappello gelo per dare una botta a questo interruttore sopra bene l'abbiamo schiacciato ma pensate io qui c'ero arrivato prima dell'ultimo gameplay e non ci sono arrivato al fatto che bisognava usare il cappello e ogni tanto ragazzi qualcosa me la dimentico ricordate sempre che questa qui è comunque la mia prima run a questo gioco quindi non è semplice entrare nella meccanica di gioco comunque ci siamo vediamo un po cosa c'è qui la fine del tempo ma questo è il finale ragazzi finale la fine del tempo affronta il boss possiamo finire il gioco intanto possiamo provare ragazzi vediamo che salta fuori poi vedremo io intanto il gioco lo completo tanto non era mia intenzione completarlo al 100% visto che comunque non lo conosco perché lo sto giocando per la prima volta sapete che c'è andiamo non pensavo ragazzi non pensavo che sarebbe stato cioè poi non lo so può anche può anche adarsi che come per super mario 64 ci siano più combattimenti intanto vediamo che succede si è fatta un bel castello questa cappuccetto rosso qui ma pensate che cos'è questo prendi ah il biglietto ok abbiamo il 154 smamma oh mio dio smamma ragazzetta sono in coda c'è una coda qui sono stata in cucine molto calde ma questa è tutta un'altra storia non so come faccia tu a non sudare ma io sto letteralmente cuocendo magari potresti saltare la coda e andare a parlare con il capo di questo posto ragazzina ma tutti qui stanno ma pensate è peggio delle poste quasi ok è il mostro che cosa può dirmi ehi ragazzina come sta la tua anima ce l'hai ancora tu mi piacerebbe sapere chi è che si crede tanto furbo da poter giudicare me intanto mi sono preso qualche centinaio di anime niente di che faccio un favore ragazzina va a vedere chi è che si crede tanto meglio di noi e riempilo di botte di solito non incoraggio questo genere di cose ma qui stiamo parlando di pura prepotenza ok ok allora andiamo su tutti qui stanno anche i mafiosi tutti che bordello ha combinato questa da quando in qua è illegale essere inquietanti ok cosa posso fare posso entrare perché può anche darsi che abbia ottenuto l'accesso al mondo ma che ancora non possa concludere è mica detto ma guardate si è fatta le statue a sua immagine e somiglianza intanto cambiamo cappello mettiamoci ecco qua qui c'è tanta energia chissà perché ok ma sono riuscito a farmi colpire beh non lo so e non mi interessa anche il tema principale ok andiamo allora qui bisogna aspettare il momento giusto temo di avere sbagliato ma non c'è problema quasi ecco l'abbiamo comunque sfangata che cos'è questo a i miei colleghi criminali non sono più riemersi dalla lava molto strano oddio che io sappia nessuno riemerge dalla lava di solito aspettate che abbasso un pochino il volume in cuffia ok proseguiamo oh calma brucia brucia aspetta aspetta fammi raccogliere devo recuperarle col giusto tempismo grazie mi hanno fatto una sorta di di applauso andiamo avanti qui è molto probabile che per continuare ci vogliano tutti i tipi di cappello e io mica lo so se ce li ho tutti comunque vediamo fin dove riusciamo ad arrivare dammi subito il tuo biglietto aio brutto ok non so se possiamo affrontarlo si possiamo fuori uno e fuori due non ci provate mai più recuperiamo un po' di energia e continuiamo ad arrampicarci aspetta fatemi vedere cosa c'è qui dei cannoni che sparano a raffica occupando tutta la superficie quindi saltiamoli bene una ciliegia che ci faccio con questa ciliegia devo ah ok è sicuramente esplosiva devo portarla lì no ah sono morto eh probabilmente perderò una vita ragazzi ehm vediamo aspetta ok no ce l'ho fatta maledizione ok torniamo qui ok ci sto riprovando e stavolta ce l'ho fatta ahia me lo sono dato in faccia ma lo abbiamo recuperato piuttosto un attimo sul menu io voglio vedere se c'è qualcos'altro che posso creare perché non ci sono più passato da queste parti equipaggiamento vediamo un po' quanta roba c'è qui abbiamo delle reliquie e va bene l'ho proprio trascurata questa parte ultimamente pasta di biscotto qui abbiamo queste varie cose questo è il raggio fantasmagorico spilla della fotocamera possiamo scattare le foto al panorama quando sei fermo indica la direzione verso gli oggetti lo scooter ok ok per il momento io penso che questo che cos'era tene premo da grapparti ai ganci ok ok oh mamma non l'avevo vista quella mega pallona e c'è anche uno di questi pro cionacci ma a proposito mi sono accorto alla fine me ne sono accorto che io posso caricare il colpo del fascio d'energia un po' come così come una sorta di geno flash che bisogna tener premuto finchè non compaiono tre stelle non so se l'hanno fatto apposta ma la tecnica è molto simile a super mario rpg ora piuttosto dobbiamo fare attenzione qui pazienza per le gemme no forse è probabile che bisognerà correre io naturalmente con un punto d'energia e mi tuffo di sotto fantastico ok riproviamoci ci siamo da mettiamo il cappello della velocità cercando di non suicidarci no calma aspettate ecco ecco fatto allora aggrappiamoci aggrappiamoci correggiamo la mira non so se queste colonne cadranno ma sembra di no ok sono più stabili di quanto pensassi bene nuova area un checkpoint no eh quindi se muoio mi tocca di fare tutto quanto dall'inizio certo se mi desse un po' d'energia non è che mi dispiacerebbe attenzione che ci sono i corvacci ma noi li uscitiamo ecco qua con la carica massima di questo pseudogeno flash e ok ora attenzione e vabbè oh energia porco cane mi serve aspetta calma ok non mi raggiunge il cappello maschera fatemi guardare bene dai che abbiamo caricato tutto benissimo lì sopra invece ah vedi che roba ce la faccio ad arrivarci saltando senza suicidarmi yes no qui ci vuole il cappello da streghetta che mi dà soltanto due gemme il problema è lì più che ah bisogna anche calcolare bene i tempi allora aspetta no mamma mia per un pelo uno due ok neanche due secondi devo lanciarmi praticamente subito benissimo eh peccato che è andato tutto a farsi benedire andiamo qui sopra e beh energia mi dispiace solo che stavo già col pieno qui sotto lì sotto che c'era vabbè altre gemme altre monete non mi interessa quindi dovremo andare qui sotto e saltare queste palle prepariamoci il cappello maschera perché laggiù ne avremo bisogno a me questa tosse non mi passa ragazzi sono guarito dalla febbre dall'influenza ma ah però attenzione attenzione che c'è una un livello alto e un livello basso di palle che ci vengono lanciate quindi noi lanciamoci così saltiamo aia molto pericolosa questa cosa aspettate studiamo bene la cosa ok bene fuori uno e fuori due beh salvo i primi incidenti ora sta andando già un pochino meglio dobbiamo solo fare attenzione a queste fiamme e a questi corvi e poi corvi insomma questi uccelli ora di qua brucieremo e splenderemo i smoke tutto fumo attenzione bene ce l'ho ancora la maschera giusta vero? verifichiamo subito appena un attimo bene sì facciamola ricaricare e andiamo qui anche in controsenso stavolta cerchiamo ecco ho sbagliato ma me la sono no 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 calma aspetta dove devo andare non vedo dove devo andare ah ci sono dei ganci ok andata adesso qui piattaforme che cadono oh pelo pelo fermi tutti fermi che c'è dell'energia oh ma rubato la maschera è invisibile ecco risolto ma perché mi muovo ragazzi perché mi muovo non so se si è impallato il gioco ok attenzione aspettate ragazzi non capisco se mi muovo oh calma calma che questi sono pericolosi questi mi ammazzano ok uno lo abbiamo tolto io a questo punto sapete che faccio eh ma sono sembra che siano collegati in qualche modo allora aspettate ok uno lo abbiamo tolto di mezzo maledetto dov'è quell'altro laggiù ok niente non gli fa effetto perché oh allora si ok abbiamo disattivato il meccanismo prendiamo l'energia e adesso possiamo proseguire è tosto questo mondo mi piace mi piace ok qui ci sono eh telecamera dei martelli divisi ecco su due sezioni oh ok eh porca miseria ecco non ci proviamo più di darmi la maschera qui i mafiosi che continuano ad accusare colpi calma che questo fa male ma noi lo oltrepassiamo adesso non vedo piattaforme invisibili attenta dove metti i piedi ragazzina eh si aha uno due ok neanche è servito il triplo salto bene eh lì ci sono dei progioni che potrebbero ecco fuori uno a terra vigliacco ecco eh eh palloncini mmm non vedo bene lì sembra esserci una piattaforma chissà se ci arrivo uno due tre non avevo visto il gancio vai benissimo io lì non ci vado non sono mica una controfigura ok no tu non sei cattivo bene ma guarda te sì che roba no 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 dai ce la posso fare ce la posso ce la posso ce la potrei fare ah grande ho anche preso tutte le gemme ora gancio lì andiamo sempre peggio no ah salta oh mio dio pensavo mi prendesse e vai qui sopra quanto manca è lunga sento odore di pollo e te credo qua brucia tutto ok pazienza aia ok ok comunque qui ci ridà l'energia pazienza per quelle gemme non me ne può fregar di meno ricarichiamoci e anzi queste lasciamole quindi ma un checkpoint nulla fino adesso ragazzi io qui se dovessi morire devo rifarmi l'intero castello mi auguro di no usiamo questo in caso per per fare degli scatti repentini hai visto mai non so cosa sto andando incontro ahm vedi l'eclessidre ci siamo non ho tirato pugno anziano signore per due giorni di fila quella volta guarda l'eclessidre wow che storia toccante scherzo sei cattivo il prossimo ho detto il prossimo sono io il prossimo forse non è saggio mettersi lì sopra oh sei tu sei stata una piccola peste molto egoista ma almeno non mi hai messo i bastoni tra le ruote quindi ti lascerò andare suppongo che tu sia una dei buoni beh se non altro vai pure puoi continuare a vivere il prossimo eh sì posso insistere ah chiedo scusa non osare avvicinarti a me penso che tu non abbia ancora capito con chi detta le regole qui signorina sai ero disposta a perdonarti un tempo pensavo che saremmo diventate grandi amiche ma veramente anch'io e invece no ti sei rivelata corrotta ed egoista salvare il pianeta dei cattivi ma chi se ne frega giusto guarda cosa sono riuscito a fare senza di te ho riportato la giustizia io sono la giustizia io sono il senato niente più cattivi mai più non ho bisogno di te questo pianeta non ha bisogno di te non mancherai a nessuno perché a nessuno importa di te sei tu il cattivo qui e adesso ti mostrerò cosa riserva la giustizia alla gente come te ok corriamo vediamo che cosa può fare ok mi lancia delle eclesidre contro come posso combatterla suon di mazzate ok non è male che cosa stai facendo ma porca eh dovrò perderci un po' di tempo ragazzi perché perché non è facile ah ok devo premere x al momento giusto corriamo colpita ora corriamo se corro in cerchio ok e questo possiamo schivarlo presa attenzione presa di nuovo ok giriamo in cerchio ah colpita e ora no quanto siamo carine deve andare via chi mafioso bambina baffuta non benvenuta qui mafia dice vattene via esatto vattene via nessuno ti vuole qui dico bene ragazzone tutti ci stanno mamma mia questa realtà alternativa puzza vattene via vattene via dico bene ragazzi tutti ci stanno vattene vattene ma puzza via sei brutta sì vattene via tutti contro di lei tutti contro di lei vattene vattene via pussa via via aria ma cosa ma io sto sistemando tutto niente più cattivi non riuscite a capire che lo sto facendo per il bene di tutti come puoi nasconderti dietro questa gente sono tutti furfanti criminali e tu li stai aiutando facciamola finita lo sapevo che non era ancora finita oh oh ok calma che stavolta mi sa che non si scherza anche perchè non vedo nulla non so se si cade non so se c'è un limite io per ora corro ok colpita oh oh che cos'è questa roba ma voi lì dietro non è potreste aiutarmi no ok queste credo che sia meglio evitarle intanto l'abbiamo colpita colpita di nuovo presa vai aia oh mamma mia spara delle onde energetiche spaventose dov'è presa via attenzione non mettiamoci su queste linee nere vai due blocchi d'energia grande potente ci è mancato pochissimo bambina con cappello non riesce a colpire malvagia bambina baffuta dobbiamo aiutare hai detto bene ragazzo diamole qualcosa da scagliare a quella mocciosetta rossa così se ne andrà via ah qualcosa di leggero ah sono le tecniche siamo pronti eh eh ragazza dacci una bella spinta e spediscici dritti sul brutto muso di sul brutto muso di quella peste ok aspetta eh vai colpita ii attenzione che adesso sta ruotando ok attenzione ora presa calma piano e vai presa oh eh vai e ne stiamo dando di santa ragione ah ah cosa una sorta di barriera ok calma giriamo come prima dov'è non l'avete eccola firmiamo un contratto e facciamo filare via quella ragazzina una volta per tutte lui sta sempre in fissa con i contratti naturalmente ah ah bene cominciamo io creo e tu lanci ok ottimo ah calma eh ma bisogna fare attenzione perché non è facile presa comunque scelto il momento sbagliato no ha una barriera energetica non possiamo colpirla quando è così eh neanche adesso è completamente invulnerabile ma penso che serva appunto questa per inabilitare la tua barriera occhio che spara ma l'abbiamo presa lo stesso calma calma ma forse lo stesso forse potrà lo stesso forse potremmo colpirla in quel momento calma saltiamo questi anelli energetici è forte è veramente forte ma mi sto anche divertendo un sacco ma mi sto anche divertendo un sacco dove è la ciliegia esplosiva eccola ma sta proprio nel suo raggio d'azione calma basta così calma no ha ucciso il mafioso quando mafia esplode esplode mafia diventa cuoricini questo fa venire idea a mafia bambina buona ha bisogno di aiuto per tornare tempo indietro se mafia esplode bambina riceve utili cuoricini mafia deve esplodere per salvare mondo cosa? piano è follia quindi si stanno sacrificando compagno mafia non deve preoccuparsi se bambina buona vince tempo torna indietro e mafia ritorna ora tirami un puglio con tutta la tua forza compagno mafia non esitare bambina malvagia vattene via ok bambina buona qui prendi questi grande meno male stavo morendo quei tipi della mafia che teste dure ma che senso avrebbe vivere se poi dovrei rimanere senza il mio treno e va bene dj grooves dobbiamo unirci per aiutare la ragazza dei mille cappelli preparati a colpirmi con forza e mira la mia faccia il mio punto debole questa piccola pesta deve proprio andarsene via ho capito ma aspettate adesso io il piano ce l'ho anche i corvacci oh che carini ok io vi ringrazio ma potevate aspettare un attimo ma che succede se scompariranno tutti tranne me allora rimarrò da sola cattivi smettetela anche lui no sei tu la vera cattiva vattene via non ci serve un eroe vattene via vattene via i miei vai i miei poteri stanno svanendo calma fantastico mamma mia ma col cavolo che stanno svanendo è più forte che mai però l'abbiamo colpita mamma mia non ci capisco nulla è velocissima è potentissima mamma mia ci vogliono per davvero dei riflessi da jedi qui e come cavolo li schivo quelli calma fermi ecco qua presa vai schivato qui oppla via via corriamo ah c'è troppa roba presa attenzione alle onde fermi tutti così colpita colpita mamma mia le botte che le sto dando eh ma anche lei mi colpisce va sempre più veloce dov'è calma calma fermi vai schivato nooo maledizione maledizione piano al centro presa 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 ok sconfitta ok ammassa che faticata cattiva brutta bambina cattiva prendiamole ma vale per uno ma vale per uno tutto ok siamo di nuovo a casa cioè a casa sulla nostra navetta vuoi lasciar cadere un frammento temporale dando così a buff cucchetto rosso il potere che serve per sconfiggere la mafia potresti non riuscire più a tornare a casa ok ragazzi qui c'è una scelta che cambia il destino perché se le lanciamo la clessidra lei sarà in grado di sconfiggere la mafia ma noi rischiamo di non tornare più a casa potremmo anche fregarcene e andare via che ne so ragazzi ce la rischiamo ma si dai proviamoci vuoi lasciare cadere un frammento temporale si ragazzi facciamo cadere un frammento e vediamo che succede un frammento 30 clessidri 40-45 in totale, non ricordo Quindi in teoria neanche ne mancherebbero troppe Oh no, io lo sapevo Che succede? Oh, ma voi che ci fate qui? Non lasciare noi Ehi piccolina, firmiamo un altro contratto Non lo sai andartene ragazza Guardiamo il nostro film tesoro Ma Ma Lei si è stufata e se ne vuole andare e basta Ok, è partita Quindi adesso che succede? Comunque noi una clessidra a lei gliel'abbiamo lasciata Sicuramente il gioco continuerà naturalmente Però intanto un finale lo abbiamo sbloccato Il gioco di per sé È molto simpatico Mi sono divertito a giocarci Ci sono state delle volte che mi ha fatto uscire di testa Eh, ma Del resto È un po' di difficoltà Comunque ci vuole ragazzi Adesso vediamo che succede E questo gameplay ragazzi è durato Fino a questo punto 45 minuti Naturalmente Farò i tagli di tutte le volte che sono morto Di tutte le volte che ho dovuto ricominciare il castello Quindi magari penso dovremmo essere A livello di una mezz'oretta Poi Se ci saranno altri gameplay Ovviamente andremo avanti e vedremo Per il momento diciamo il gioco Ufficialmente è finito Poi toccherà vedere se Faremo anche i DLC Magari Prenderò un attimo di pausa Da questo A heading time E ci dedicheremo ad altro Staremo a vedere ragazzi Dipende da come mi girerà Quindi lei alla fine Ha deciso comunque di mollare tutto E tornare a casa Tocca vedere cosa succede E qualora uno raccogliesse tutte quante le clessitere Poi ci sono anche i DLC da giocare Magari Visto che c'è la possibilità di farlo in cooperativa Vedrò se è possibile continuarlo Magari proverò a chiamare Alessio E vedere se Gli va di farsi qualche partitella in cop Potrebbe essere divertente Anche pure per variare un po' la formula Oh il corvo ciccione Mamma mia ragazzi Solo il pensiero di dover renderizzare questo video in 2k Che dura così tanto Ci vorrà un bel po' Cioè molto più del normale Lo faremo Che poi comunque le ambientazioni erano tante Erano varie E anche a livello grafico La Real Engine fa molto bene il suo lavoro È molto gradevole da vedere Poi comunque azione fluida Belle animazioni Certo elementare per quanto riguarda il motore di base Però comunque la grafica è veramente veramente gradevole E anche la risposta dei comandi Una bella colonna sonora Mi piace Mi sono ritrovato più di una volta A fischiettarla Mentre l'ero per i fatti miei Enrico Pizzolato è stato il traduttore della versione italiana Naturalmente alcuni mostri ancora mancano Non abbiamo finito il gioco al 100% Oh Con i peluche Dei personaggi E così finisce a Hetting Time ragazzi Con lei che finalmente torna a dormire Sulla via di casa Veramente veramente carino come gioco Ok quindi il gioco ufficialmente è concluso Comunque sicuramente io continuerò a giocarci più avanti Mi farò qualche gameplay E vedrò se riuscirò effettivamente a giocarlo anche magari in cooperativa E andremo anche a vedere se ci sarà tempo i DLC Comunque detto questo io per adesso mi fermo Concludo qui questa serie E vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine Se vi va lasciatemi un like ed iscrivetevi al canale per tutte le serie che verranno in futuro E noi ci vediamo prossimamente con le altre serie in corso Abbraccio a tutti ragazzi ciao Alla prossima